Hai mai pensato a quanto possa cambiare tutto in un attimo durante un normale turno di lavoro? Immagina di essere un agente di polizia, impegnato in una pattuglia di routine lungo un'autostrada, quando improvvisamente la situazione prende una piega tragica e inaspettata. In un solo istante, il pericolo diventa reale e incontrollabile, trasformando una semplice fermata per eccesso di velocità in una scena di devastazione totale. Nel video di oggi ripercorriamo i tragici eventi che hanno colpito quattro poliziotti, morti sul colpo dopo essere stati travolti da un camion impazzito durante un controllo stradale. Questa tragedia non solo ha sconvolto un'intera comunità, ma ha sollevato domande importanti sulla sicurezza e i rischi che gli agenti affrontano ogni giorno. Resta con noi fino alla fine, perché ciò che scoprirai potrebbe farti vedere sotto una nuova luce il coraggio di chi si sacrifica per proteggere le nostre strade. Una tragedia devastante lungo un'autostrada senza pedaggio. Quattro poliziotti perdono la vita in un istante. Come può una semplice pattuglia di routine trasformarsi in un dramma così sconvolgente? Durante una pattuglia di routine, quattro poliziotti sono stati travolti da un camion, perdendo tragicamente la vita. Gli agenti avevano fermato una Porsche per eccesso di velocità e stavano eseguendo i controlli sul bordo della strada. Proprio mentre erano in pieno svolgimento delle verifiche, un camion ha sbandato e li ha travolti, uccidendoli sul colpo. Se anche tu sei scioccato da questa tragedia, lascia un commento con le tue riflessioni e premi il pulsante «Mi piace» per sostenere la memoria degli agenti caduti. Secondo le prime indagini, due degli agenti stavano sequestrando la Porsche per varie irregolarità e avevano chiamato rinforzi. Improvvisamente, il camion è piombato sul gruppo di poliziotti, distruggendo sia la pattuglia che la vettura sportiva. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma per i quattro agenti, tre uomini e una donna, non c'è stato nulla da fare. Il conducente della Porsche è fuggito a piedi dopo l'incidente ed è attualmente ricercato dalle autorità. L'autista del camion, rimasto illeso, sarà sottoposto a test per droghe e alcol, ma le cause dell'incidente restano un mistero. L'incidente ha sollevato molte domande. Il camionista ha sbandato per un errore umano o c'è altro dietro questa devastante fatalità? Cosa ne pensi della sicurezza sulle nostre strade? Iscriviti al canale per restare aggiornato su tutte le notizie più importanti e attiva la campanella per non perderti nulla. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia causato lo sbandamento del mezzo pesante e la dinamica precisa dei fatti. Nel frattempo, la comunità è sotto shock e le ricerche per catturare il fuggitivo sono in corso. Non perderti nemmeno un momento. Abbonati ora per accedere subito a contenuti esclusivi che ti lasceranno a bocca aperta. Clicca e unisciti alla nostra community. Il drammatico incidente ha scosso l'intera nazione, sollevando dubbi sulla sicurezza delle pattuglie lungo le strade ad alta velocità. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima! Alla prossima!